Abbiamo visto che i due aspetti fondamentali di questo modello di sviluppo di Industria 4.0 sono l'uso diffuso di nuove tecnologie in tutta l'azienda, non solo nell'aspetto della produzione e anche nuovi modelli di business di mercato. Quindi diciamo modelli di business che sono pensabili solo utilizzando gli strumenti tecnologici che abbiamo visto, in particolare ad esempio internet. Quindi c'è un nuovo modo di mettere i propri prodotti nel mercato cercando di competere evidentemente con aziende più tradizionali. Allora di questi modelli di business che cosiddetti dirompenti, quindi che cambiano un po' il modo tradizionale di offrire prodotti agli utenti, ci sono alcuni aspetti ricorrenti. Il primo è quella che in inglese è customer centricity, quindi la centralità del cliente o dell'utente diciamo nell'intero processo. Vediamo questo che cosa vuol dire. Altri aspetti di economia, l'economia circolare, sempre più importante, le strategie di mercato che sono basate proprio sulle tecnologie di information and communication technology, la shared economy, quindi condivisione di strumenti, ci sono diversi esempi molto elementari, e infine l'economia del fare, quindi la maker economy, dove potete immaginare per esempio che queste stampanti 3D possono essere uno degli aspetti importanti. Vediamo alcuni esempi. Quindi diciamo il cliente, la centralità del cliente come modello di business, ovviamente il cliente è sempre stato centrale, se un utente non ama un prodotto non lo compra, quindi fine della storia. Ma in questa cosiddetta catena del valore, l'utente stesso rintroduce valore nel prodotto, nel momento stesso che dà delle informazioni sul suo utilizzo. Quindi nella nostra vita quotidiana, sia quando utilizziamo strumenti software, sia quando accediamo a dei servizi e via dicendo, sempre più spesso immediatamente ci viene richiesto qual è il nostro grado di soddisfazione. Anzi, a volte è quasi fastidioso, soprattutto se non siamo soddisfatti. Invece è un aspetto che ha doppie facce. Quindi raccogliere queste informazioni e immetterle il più rapidamente possibile nel processo produttivo, è chiaro che rende l'azienda più competitiva rispetto ad altri invece che hanno più tempo di adattamento. Mi piace le parole che ho usato in questa slide dove dico che in modo creativo è propositivo. A volte fin troppo invasivo, direi che non ci andrebbe anche questo aggettivo. Comunque diverse aziende, sia a livello globale che ovviamente a livello di servizi, utilizza sempre di più questa centralità del cliente. Qui ognuno poi l'ha chiamata in un modo diverso. Per esempio la Lalliance, che è una grande azienda assicuratrice, chiamata Customer Focus, la Cisco, che produce sistemi informatici customer centricity, Yahoo, Fixation e chi più ne ha più ne metta. Voglio fare un esempio tratto da un progetto di sviluppo nell'ambito dell'industria tessile, dove questa è una raffigurazione di tutti gli attori principali nell'industria tessile. Quindi si parte dall'industria chimica che produce delle fibre, dalle fibre si passa a dei filati, gli arna sta per filati, dai filati si passa a dei tessuti e poi a dei tessuti finiti. E tutto questo passaggio, diciamo, non è più compito dell'industria chimica, ma essenzialmente dell'industria tessile. L'industria tessile ha bisogno di provider di servizi, per esempio di personale, diciamo, a tempo determinato che viene impiegato nella produzione. Con chi si interfaccia? Si interfaccia con l'industria vestiaria, quindi gli abiti che vengono fatti con questi tessuti, quindi l'industria della moda in particolare, oppure degli interni, quindi diciamo dei prodotti tessili che sono utilizzati per divani o quant'altro, diciamo, all'interno di una casa. Ovviamente c'è anche la grande distribuzione, il retail, è un po' diverso, diciamo, nei mercati di grandi, cioè i negozi di grandi marche rispetto alla grande distribuzione. E altri utilizzi di prodotti tessili nell'ambito di altre industrie, per esempio, appunto, nel trasporto, nei teloni, diciamo, dei camion, nelle costruzioni, mobilifici, oppure uso all'interno della grande distribuzione negli ospedali, negli alberghi e via dicendo. E così via. Fino ad arrivare a una divisione, diciamo, tra utenti privati e utenti a loro volta industriali che utilizzano prodotti dell'industria tessile per fare altri prodotti. E infine il riciclo, ovvero i rifiuti, diciamo, di questa produzione, anche del prodotto stesso. Ecco, in tutto questo, diciamo, oltre a intervenire nell'automatizzare, nell'integrare aspetti informatici a livello di industria tessile e di distribuzione e di industria del tessuto o dell'abbigliamento, scusate, c'è anche un'idea di avere questi attori che risalgono lungo la catena del valore. Quindi, fino ad arrivare alle richieste, se volete, a bovo, dei materiali chimici con caratteristiche diverse, per esempio di alta traspirabilità, quindi il modello di business in cui il customer è centrale, adesso qui di customer ce ne sono tanti, quindi ognuno ha i suoi aspetti, magari l'industria che produce mobili che hanno bisogno di alcuni tessuti, per esempio per il rivestimento interno, ha delle necessità diverse rispetto a un utente di grande distribuzione, e così via. Va bene? Quindi fare un'analisi di chi sono gli agenti coinvolti in tutto processo permette anche poi di stabilire i flussi di informazioni che sono importanti per migliorare il prodotto. Economia circolare, quindi non basterebbe forse un corso dedicato a questo, sempre più importante. diciamo che il prodotto, la produzione lineare, quindi progetto un prodotto, progetto il metodo di produrlo, lo produco, lo distribuisco, lo vendo, viene utilizzato, consumato, viene buttato. Questo è il modello lineare classico che rimane anche inevitabile in alcuni casi, ma è altrettanto inevitabile pensare sempre di più sin dalla fase di progetto, quindi di design di un prodotto, alla sua riutilizzabilità. Quindi è un cambio completamente necessario di paradigma. Ci sono diverse aziende che hanno al loro interno preso questo obiettivo, questo modello di business come fondamentale, ed è chiaro anche un modo di offrirsi al mercato in maniera diversa. Il fatto che, come chi produce a chilometro zero o produce riciclando o producendo degli oggetti che sono riciclabili o che non hanno un danno sull'ambiente, è un fattore determinante magari nella scelta di un prodotto rispetto a un altro. Quindi progetta, usa, ricicla, riusa, il più possibile. Poi ovviamente c'è un decadimento dei materiali. E il riciclaggio delle bottiglie di plastica o di tutti i materiali plastici è un esempio. Molto efficiente in Italia è il riciclaggio di lattine, di prodotti d'alluminio. C'è un 80% di riciclaggio di questi materiali. Quindi non bisogna buttare le lattine nei rifiuti indifferenziali. Questa è una cosa molto importante. Vedete, qui c'è un esempio di un utilizzo della plastica PET per produzione tessile. Proprio, diciamo, viene fuori da quell'analisi di prima. Quindi, diciamo, ci sono due requisiti. Riduzione dell'impatto ambientale e riduzione dei rifiuti e degli scarti. Ovviamente, anche questo cambia la catena di produzione perché una cosa è approvvigionarsi per esempio l'industria tessile dall'industria chimica primaria che produce i filati e altro è approvvigionarsi da aziende che fanno la trasformazione del PET per poter avere diciamo delle materie prime di questo genere. Quindi cambia completamente la catena produttiva. Strategie di mercato basate sull'ICT qui vorrei dire sfondo una porta aperta probabilmente perché, diciamo, vogliamo poter migliorare l'efficienza dell'azienda utilizzando tutte le possibilità che ci offre per esempio internet. Anche qui vogliamo portare il prodotto più vicino al consumatore finale quindi in qualche modo questa è collegata anche alla centralità del consumatore ma, diciamo, ci sono delle opzioni che sono proprio caratteristiche della possibilità di avere un mercato diciamo interconnesso dal punto di vista informatico. Per esempio c'è sempre più la possibilità non di vendere il prodotto ma di darlo in leasing o in affitto e avendo il produttore stesso che lo ritira dal mercato ne cura la maturitazione quindi, diciamo, sollevare l'utente da una serie di operazioni che se acquistasse il prodotto diciamo sarebbero a suo carico. Pensate agli autoveicoli quindi alla manutenzione. E qui c'è un elenco di esempi che sono ovviamente negozi online la possibilità di fare e-learning e-learning vuol dire mettere a disposizione un prodotto invece di venire qui diciamo a seguire dei docenti che fanno lezioni in aule fisiche la possibilità di seguire in remoto ovviamente tutti gli aspetti legati alla liquefazione dei prodotti musicali non ci sono più i DVD o i CD io ero nato addirittura con i long play di vinile che adesso poi tornano per altri motivi ma è tutto diciamo digitale si possono affittare anche grandi capacità di calcolo oppure depositi qui sulla tangenziale pochi metri oltre Marco Polo c'è un centro dove potete depositare oggetti magari per fare traslochi fra tre anni e così via attività di leasing di ampio genere rientrano tutti nella possibilità di monitorare questi prodotti e avere un contatto diretto quindi poterli richiamare per mettere all'utente un facile rientro quindi un periodo temporaneo di utilizzo sharing condivisione beh questo ancora peggio diciamo c'è la possibilità di utilizzare degli strumenti solo quando ci servono veramente quindi soprattutto per la mobilità diciamo lo sharing di veicoli in particolare di veicoli elettrici i quali rispondono anche a un'altra esigenza di riduzione di impatto ambientale di riciclaggio e di scarso inquinamento questo modo di sharing si trova in diversi ambiti quindi nella mobilità adesso oltre al bike sharing c'è anche non so come si chiama il monopattino ovviamente anche nei viaggi di lungo termine forse avete sentito parlare di uno dei primi attori si chiamava BlaBlaCar ma adesso possiamo condividere il viaggio in un autoveicolo privato diciamo che diventa pubblico per solo la durata del viaggio stesso e ovviamente per poter accedere a queste informazioni abbiamo bisogno di riconoscerle non è solo tra parenti amici ma diciamo è a livello di internet stessa storia Airbnb è un'idea di case in affitto anche per affitti temporanei ci sono sempre state ma diciamo che diventano un sostituto dell'albergo poter avere una completa possibilità di utilizzo di tutto quello che c'è in una casa normale piuttosto che in un albergo è diventato possibile solo tramite internet adesso sono in crisi anche questi evidentemente ci sono altri aspetti di condivisione diciamo c'è stato non solo il telelavoro ma il co-working per esempio qui adesso non so se non siamo al dipartimento ma vicino al dipartimento a Piazza Dante c'è stata un'azienda di co-working che purtroppo adesso ha chiuso sempre per lo stesso motivo di di trasporto ma diciamo poter condividere anche delle strutture che servono solo parzialmente e che potrebbero costerebbero troppo diciamo se acquisite solo da un attore quindi altri modelli diciamo che condividono e quindi richiedono altro tipo di organizzazione della produzione in senso lato e infine l'economia del fare allora l'economia del fare vuol dire ecco qui richiamo ancora le 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 stampanti 3D ma essenzialmente recuperare delle attività manuali quindi di artigianato ma utilizzando al contempo avere dei prodotti unici questo vuol dire artigianato però utilizzando strutture digitali di supporto qui diciamo questo può essere utile anche per avere dei prototipi a basso costo iniziali per poter comporre anche fare dell'arte diciamo con questo tipo di attività e la prototipazione rapida diciamo è la parola chiave per esempio qui in questo video c'è un robot che fa una 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 testa diciamo di un manichino o addirittura una parte artistica completamente programmata quindi vedete è un modo di fare un oggetto artigianale ma con degli strumenti digitali come sono appunto i robot industriali vorrei diciamo a questo punto riprendere la presentazione dei magazzini automatizzati o come si chiamano fulfillment center perché rispondono alle richieste degli utenti che vogliono dei prodotti che acquistano dei prodotti in internet dell'Amazon con un video che diciamo riprende un po' quello che abbiamo visto della Kiva di fatto il sistema è quello della Kiva che poi è diventato proprietario dell'Amazon però vorrei farvi vedere qualche aspetto ulteriore mediante questo video e poi con qualche commento quindi ecco il video è partito ecco vedete adesso diciamo all'interno di uno di questi Amazon fulfillment center vedete questi robot della Kiva System che sono dei robot omnidirezionali in realtà non sono omnidirezionali ma diciamo ruotando sul posto possono andare in tutte le direzioni anche se le direzioni X e Y non sono quelle privilegiate e si possono muovere al di sotto di questi pod di queste specie di armadietti che contengono i prodotti dove vengono immagazzinati i prodotti e poi li possono sollevare quindi possono passare sotto la parte di magazzino statica per andare a prendere il pod necessario sollevarlo e poi portarlo in giro fino a dei centri di raccolta ovviamente ci sono dei corridoi liberi e dei corridoi pieni e ci sono degli incroci quindi bisogna anche coordinare tutto questo movimento questi robot si muovono lungo questi assi X e Y vedete per terra li conoscete ci sono dei QR code che vengono utilizzati per sapere quale robot sta in quale posizione anche per permettere ai robot di non delocalizzarsi magari a caso di slittamenti ecco questo è un centro di assemblaggio se volete di raccolta dove un operatore umano raccoglie appunto le parti che li vengono portate dai pod quindi dai robot e poi c'è anche tutta un'altra fase che qui non avevamo visto che è quella di immagazzinamento adesso ci sono dei magazzini multipiano quindi su ogni piano si possono muovere questi pod guidati dai robot mobili e il caricamento e lo scaricamento di questi magazzini avviene con degli AGV oppure dei sistemi teleguidati dei nastri o dei rulli di trasporto e dei robot montati in diverse posizioni che fanno diciamo l'handling quindi la manipolazione di prodotti che vengono dall'esterno e che vanno immagazzinati con le caratteristiche che abbiamo già accennato e che adesso rivedremo ovviamente poi ci sono questi la parte di shipping finale è altrettanto importante vedete ci sono dei sistemi molto simili a quelli che si trovano negli aeroporti per la movimentazione dei bagagli ecco questa è una parte abbastanza fissa e poi c'è la parte finale di shipping adesso questo diciamo forse è meno interessante ecco diciamo quali sono le caratteristiche salienti appunto di questi fulfillment center innanzitutto all'anno scorso c'erano circa 110 centri distribuiti in tutto il mondo quasi la metà negli Stati Uniti anche in Italia ce ne sono diversi e complessivamente 90.000 addetti quindi diciamo non è tutto automatizzato come avete visto qui è una classica situazione in cui c'è una cooperazione tra parti automatiche e operatori operai in carne ed ossa diciamo e ci sono diversi diverse generazioni di centri diciamo più o meno automatizzati ci sono ancora altri centri in cui i robot non sono per nulla presenti però in un centro di questo genere quindi a livello di automazione elevato ci stanno circa un migliaio di addetti nei centri più grassi altrettanti robot mobili e una varietà di prodotti che va oltre i 10 milioni quindi diciamo una necessità di tenere un database aggiornato a tempo reale dove sta cosa che potete immaginare diventa diciamo piuttosto critico adesso questi magazzini sono eventualmente messi su più piani con una struttura molto regolare avete visto diciamo x y ripetuta modulare quindi io posso vedere delle zone che sono completamente vuote che vengono riempite solo magari in alcuni periodi dell'anno dove c'è maggiore richiesta quindi regolare è piuttosto densa ricordatevi che anche metro quadrato costa diciamo in un magazzino di questo genere quindi si cerca di essere molto compatti abbiamo visto già nel dettaglio che tutto il ciclo produttivo dell'Amazon quindi anche questo può essere le materie prime sono in realtà prodotti finiti che vengono da altre aziende quindi c'è la parte di acquisizione quindi di supply la parte di stoccaggio abbiamo già discusso che questo stoccaggio viene fatto in maniera flessibile per cui non ci sono zone riservate a prodotti questo permette anche di evitare quello che si chiama restocking quindi diciamo di ridistribuire i prodotti esistenti nel magazzino per creare spazio o per necessità di spazio appunto quindi lo stoccaggio flessibile tracciabile qui ho detto random in realtà abbastanza random nel senso che abbiamo anche detto che tendiamo ad addensare i prodotti più richiesti vicino ai centri di raccolta in modo che questi pod e questi robot viaggino meno possibile all'interno della però questo tempo dovete pensare che poi c'è sempre il tempo di assemblaggio delle parti quindi io ho un certo intervallo di tempo in cui questi pod si possono allineare in fila ai centri di raccolta quindi il fatto che viaggino un po' di più non è un problema da questo punto di vista quindi poi la fase di picking quindi non ci sono più gli operatori che vanno in giro qui vedete una situazione abbastanza densa e abbastanza significativo il fatto che questi robot possano navigare non solo negli spazi liberi ma anche negli spazi pieni perché vanno sotto questi pod ovviamente quando ne sollevano uno lo devono poter trasportare in zone solo libere e lì c'è un problema di navigazione e poi la fase di shipping ricomposizione del pacco nelle stazioni di assemblaggio e poi nell'invio finale questi sono dei dati che sono stati resi pubblici dall'Amazon la parte di stoccaggio di un intero trailer richiede circa 30 minuti rispetto alle ore che richiedeva precedentemente qui c'è un grande risparmio di tempo questo è vero lo stoccaggio dinamico dei prodotti più richiesti sono più vicini ma mantenuti ancora in un aspetto random perché altrimenti ci sarebbe un addensamento di robot che vanno a cercare questi prodotti solo in una zona del magazzino si cerca invece di farli navigare nell'intero magazzino e complessivamente questi fulfillment center tempi di soddisfazione o soddisfacimento meglio soddisfacimento perché la soddisfazione è quando sono veramente contento soddisfacimento è dire ho un'operazione più meccanica c'è una richiesta la richiesta viene soddisfatta poi la soddisfazione ci può essere un meno quindi soddisfacimento non è magari un neologismo ma l'ho voluto utilizzare proprio per distinguerlo dal termine soddisfazione questi tempi medi sono stati ridotti al 25% essenzialmente quindi anche qui c'è stato un grosso risparmio allora l'Amazon al suo interno ha creato una sottosezione che ha chiamato Amazon Robotics per curare proprio l'automazione di questi magazzini i componenti base sono molto semplici sono tre e sono modulari perché ne potete mettere quanti vuole quindi sono da un lato l'utilizzo di QR code quindi avete delle zone che devono essere necessariamente piane i vostri piani del magazzino che però andate a strumentare quindi andate a mettere a distanze regolari una distanza di Manhattan quindi le distanze si calcolano in X più Y ok non in distanze cartesiane quindi non potete andare in diagonale ok quindi regolarmente lungo le coordinate X Y vengono disposti quindi vengono attaccati e poi si possono anche staccare questi QR code che ci dicono dove ci troviamo quindi questo è uno dei tre componenti base e ne potete mettere quanti ne volete evidentemente poi ci sono le navette quindi questi pod anche loro sono caratterizzate da un QR code e contengono i prodotti quindi ogni navetta ha un suo codice e nel momento stesso che in questa navetta andiamo a mettere dei prodotti nella fase di stoccaggio c'è l'associazione ovviamente prodotto codice e poi robot mobili i robot mobili colloquano tra di loro in una rete locale in wifi ok quindi scambiano informazioni di questo genere ci sono anche dei malfunzionamenti ad esempio un robot può arrestarsi e questa è un'informazione che viene immediatamente raccolta quindi la navigazione di tutti gli altri dispositivi evita quella zona quindi è come se cambiasse la mappa va bene nel frattempo interviene qualche personale che va a rimuovere a riattivare questo robot quello che sia la stessa situazione se dovesse cadere qualche 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 pezzo diciamo c'è una possibilità di riarrangiare un funzionamento che altrimenti apparentemente diciamo è piuttosto regolare anche se all'apparenza casuale come sono fatti questi robot mobili vedete nella prima immagine in alto a sinistra una vista dal basso riconoscete sei ruote in realtà sono due ruote attuate quindi due motori che movimentano queste due ruote che sono messe sullo stesso asse quindi se mandate comando in una direzione lo stesso comando ai due motori il robot si muove in linea retta in una direzione o in senso inverso se invece date comandi opposti uguali opposti il robot gira sul posto o in senso orario in senso anitoriale al secondo verso in questa dettaglia in realtà se deste dei comandi diversi il robot andrebbe lungo archi di circonferenza la cui il cui raggio dipende dal rapporto tra le velocità che state dando alle due ruote e anche dalla distanza tra le due ruote per esempio se date velocità 0 alla ruota sinistra e una velocità qualsiasi alla ruota destra fate pivoting sulla ruota sinistra con un raggio che è pari alla distanza delle due ruote ok quindi la mobilità è molto più ampia ma non viene utilizzata affatto in questo contesto quando si parla invece di robot mobili AGV senza guide la cinematica delle ruote è molto simile ma questi robot in realtà possono navigare in maniera arbitraria non fare solo linee rette diciamo o girare sul posto invece nei magazzini Amazon vengono utilizzati in questo modo le altri quattro oggetti sono ruote passive sono castor sono come sono di tipo di vario genere questi mi sembrano sferici quindi sono delle sfere dentro degli involucri sferici per cui ruotano in qualsiasi direzione devono ruotare e mantengono l'equilibrio quindi non sono dei sistemi tipo i segway non so se siete mai andati su uno di questi segway in piazza del popolo ce n'erano alcuni adesso la segway è morta completamente tra l'altro è morto anche il suo inventore non so se sapete questo altro aneddoto è morto su un segway perché si è avvicinato troppo a una roccia scoscesa ed è caduto ed è morto ma diciamo a parte questo non è questo il motivo per cui sono più efficienti sono stati una grande idea questo equilibrio dinamico ma qui non c'è bisogno di tenere in equilibrio ci sono i castor che tengono bilanciati soprattutto perché questi oggetti devono poi sollevare un carico notevole un carico che ha almeno il loro peso ok e c'è un sollevatore lo vedete diciamo nella figura in basso a sinistra il sollevatore appunto ruota di fatto si utilizzano gli stessi motori che azionano quindi non c'è un terzo motore vengono staccati uno dei due motori dà la salita o la discesa dopodiché il sistema si blocca e il motore ricomincia a guidare le quindi non c'è bisogno di un motore in più meno costo ritorna ad azionare le ruote e poi ci sono due camere che servono a leggere i QR code i QR code a pavimento quindi c'è una telecamera che guarda in basso e quindi ci permette di localizzare e una telecamera che guarda i pod e quindi riconosce quale pod deve prendere ok quindi è un check ovviamente perché nel frattempo sappiamo sempre dove sono i pod quindi diciamo è un doppio modo di localizzare questi pod nel magazzino e infine perché questo è importante un sensore di prossimità che rileva gli ostacoli nel cammino quindi se c'è un pezzo caduto per terra viene rilevato e questa informazione viene mandata sempre al calcolatore diciamo centrale ok perché c'è un sensore solo perché in realtà questi veicoli vanno solo in una direzione cioè si girano in realtà potrebbero andare avanti e indietro ma in realtà possono girare sul posto quindi procedono sempre in una direzione e in quella direzione davanti ho messo il sensore di prossimità ok quindi vedete ci sono delle scelte che sono non indispensabili ma insomma economizzano e diciamo qui ho cercato con gli strumenti potenti di powerpoint di fare un minimo di animazione diciamo proprio veramente minimale per capire che cosa succede in fase operativa quando siamo in non c'è mai una situazione di regime ecco questo diversamente per esempio lo vedremo dalle catene di produzione dalle linee di produzione in cui c'è una fase di avviamento in cui i primi pezzi entrano nelle prime macchine le prime macchine fanno delle lavorazioni passano queste lavorazioni alla macchina successiva e così via a un certo punto l'ultima macchina comincia a fare la sua ultima operazione su questo pezzo mentre la prima macchina sta ricevendo un nuovo pezzo quindi dopo un transitorio iniziale siamo andati a regime da questo punto in poi possiamo vedere quello che succede il throughput è legato appunto al funzionamento di tutte le macchine in contemporanea ognuno che fa un lavoro ci possono essere di buffer intermedio oppure no se sono tutte sincronizzate un'attività richiede più tempo e quindi i pezzi precedenti devono andare per un certo periodo su una zona su un buffer intermedio ovviamente il tempo di passaggio è legato se volete anche alla macchina più lenta perché altrimenti avrei un accumulo in questo buffer che non può essere infinito ecco questi problemi si possono studiare modellizzando con una rete di petri per esempio questo sistema ok vedendo diciamo qual è il throughput oppure formulando un problema di ottimizzazione quindi matematico risolvendolo a tavolino e poi magari simulandolo con una rete di petri comunque non è questa la situazione questo solo per dire che questo sistema non è mai a regime ok cambia in maniera molto dinamica in base appunto agli ordini che arrivano dall'internet quindi dal vostro click sul vostro computer e quindi ho un numero vedete ho raffigurato delle stazioni di raccolta le ho messe qui all'esterno in realtà non so esattamente come sono posizionate ci sono delle zone dove sono messi questi pod a riposo e ci sono dei robot mobili questi in arancione che si muovono quando vanno a prendere dei pod diventano arancioni chiaro perché stanno sotto all'ipodo ho usato questo tipo di notazione per colori in più solo in una certa parte ho messo dei QR code in realtà i QR code stanno dappertutto li ho fatti vedere solo in questa zona quindi che cosa succede quando un centro di raccolta deve cominciare a fare una scatola con una serie di prodotti si cominciano a muovere questi robot quindi partono da stazioni di riposo ma in realtà non stanno quasi mai in stazionamento e si muovono diciamo vanno a prendere pezzi oppure vanno a prendere pod e li portano si possono muovere al di sotto dei pod stessi ma quando li raccolgono devono viaggiare lungo questi corridoi liberi ok? quindi quale corridoi quale percorso fare per arrivare a prendere il pod contemporaneamente ci possono essere fino a mille robot di questo genere preso il pod dove andare in quale stazione andare e con quale cammino magari facendo un giro molto più lungo perché voglio evitare collisioni e via dicendo avendo una tempistica è un problema diciamo di di attività complessissima tanto complesso che l'Amazon stessa trasferisce questo task a degli algoritmi che viaggiano su un mega calcolatore nel cloud ok? e che restituiscono la soluzione ottimale o subottimale in tempo reale ok? e questo continuamente vedete quindi questo è un classico esempio in cui di quelle tecnologie abilitanti che abbiamo visto quella del cloud viene utilizzata proprio da un punto di vista computazionale non solo per mettere dei dati che poi qualcun altro prenderà ok? ma proprio come capacità di calcolo in qualche modo è come se i fulfillment center avessero in affitto questa capacità di calcolo invece di mettersela in locale dove magari non la sfrutterebbe completamente ok? quindi se poi gli algoritmi si diventano più efficienti sono algoritmi che vanno messi solo in una zona centrale non c'è bisogno che migrino diciamo nei quanti sono centinaia di fulfillment center in giro per il mondo ok? quindi possiamo dire che l'Amazon io adesso non sto facendo la pubblicità l'Amazon assolutamente ma comunque è un esempio di evoluzione dell'automazione che cattura alcune di queste parole chiave che abbiamo presentato oggi per Industria 4.0 quindi in particolare diciamo tecnologie avanzate robotica robotica avanzata questi robot mobili grandi quantità di dati cloud computing ovviamente un modello di business basato su information communication technology su internet essenzialmente in modo che questo prodotto fosse più vicino al cliente nella fase di lockdown questa è stata una delle aziende che ha fatto più ritorni in termini economici insieme alla distribuzione diciamo locale perché poi ovviamente questi oggetti vanno portati nelle varie case il concetto di cloud automation è un po' più generale qui una bella immagine che fa vedere un possibile esempio di questo flusso di informazioni ecco immaginate che partiamo dall'alto abbiamo un macchinario industriale qui è rappresentato una turbina ma insomma potrebbe essere qualsiasi cosa intelligente quindi instrumentation quindi con degli strumenti di misura che non servono per la sua funzionamento ma per il suo metafunzionamento in qualche modo per capire se le cose vanno bene allora da questi dati che vengono raccolti con continuità oppure schedulati a certe ore insomma questo non è importante sono locali sono proprietari dell'azienda l'azienda fino adesso è stata molto gelosa di conservare questi dati semmai li abbia raccolti vengono estratti formattati in un certo modo quindi devono essere trasformati protocollati perché altrimenti sono dati grezzi inutilizzabili bisogna capire qual è il loro formato possono essere delle temperature possono essere delle velocità dei motori quello che sia a questo punto vengono in qualche modo processati da algoritmi che gestiscono grandi dati per vedere se posso estrarne delle informazioni oppure a questi dati posso accedere con strumenti remoti per esempio con degli smartphone per avere qualche informazione sulla produzione forse non ho commentato nel video di Simplexity oltre alla fase di uso di Google Glass avete visto che a un certo punto c'erano delle persone sedute nella mensa diciamo di un'azienda che invece di stare vicino al sistema produttivo possono monitorare lì una specie di Apple Watch o quello che sia delle informazioni che vengono su un dispositivo indossabile no? ecco qui la stessa cosa diciamo posso avere uno smartphone o qualsiasi altro dispositivo mobile che mi permette di accedere e se mi accorgo che c'è qualche dato che emerge che dice che c'è un problema un potenziale problema posso utilizzare la rete internet di collegamento umano di persone di esperti o di altri della stessa azienda in altri impianti o addirittura di altre aziende se vogliamo se siamo pronti a condividere queste informazioni che magari mi avvertono di qualche problema che può insorgere su quel macchinario e quindi questa intelligenza distribuita invece di averla nel centro di ricerca e sviluppo locale non so cosa è successo qui è praticamente a livello globale e quindi però questa informazione può ritornare sulla singola macchina che magari viene fermata è un'idea è un'idea diciamo futuristica in qualche modo ma che sta diventando sempre più reale se riusciamo a fare questo tipo di passaggio a industria 4.0 cloud automation in senso lato bene credo che è un'idea